... ... ... ... Agostino! Toccame la ciotta! L'humanità! L'humanità! Cosa constituents? Con esa dosis, ninguno... e che non soppare che non soppare e che andò quindi adesso lo va a matar o se, a noi te vamos a dar un brevaje mágico che quando è soppare a dormire come per un milagro un sogno profondo delo e quindi quando muera come? come quando si queda dormito lo mettiamo come una moia lo mettiamo in un sarcopago e così va despertando un milagro Rejuvenecido, radiante Y agradecidísimo Y solo quieres que dalle un verdadero magico Que sea un tono E se si me gusta! Que por el mejor pillo me quito!